Serviva una vittoria per rimettersi dopo i fattacci di Roma contro la Lazio e questa vittoria è arrivata. Amici e amici appassionati di grande calcio, buona sabato sera di lockdown, semi-lockdown in Sonizzone Arancione. Buonasera, buonasera, ragazzi. Partita Juventus-Cagliari, terzo anticipo dell'ottavo turno del massimo campionato di calcio di Serie A Team 2020-2021. La sfida di Torino, a porte chiuso ovviamente per l'emergenza coronavirus, è stata vinta dalla squadra di Andrea Pirlo per due reti a zero. Parliamo un po' di questa partita. Nel primo tempo c'è stata una predominanza del colore bianco e nero con il Cagliari che non è stata autrice di nemmeno un tiro. Non un tiro in porta, ma proprio un tiro che si avvicinasse lontanamente alla porta di Gianluigi Buffon. Erano anche partiti bene con un buon ritmo, però poi la Juve, minuti, 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 dopo minuti, è riuscita a prendere il campo, a prendere in mano la partita. Ed è passata in vantaggio con Cristiano Ronaldo al 38esio minuto su suggerimento di Morata che l'ha servito sulla fascia sinistra. Poi Ronaldo si è accentrato improvvisamente, si è destreggiato molto bene fra le maglie della difesa rosso-blu e ha trafitto il portiere del cavaliere dei quattro mori, ovvero Cragno. Successivamente diciamo che il Cagliari che si era schierato con un modulo abbastanza rinunciatario, con la difesa a 5 addirittura, mentre invece sappiamo che Di Francesco è un allenatore molto offensivo. Questo call di Ronaldo gli taglia le gambe. Taglia le gambe alla squadra sarda che subisce subito un 1-2 clamoroso su situazioni di calcio d'angolo con incornate di testa da parte di Demiral che serve in maniera totalmente involontaria Cristiano Ronaldo che batte ancora una volta il portiere con la maglia numero 28. Nel secondo tempo le cose cambiano diciamo perché vediamo con l'ingresso di Sottila al posto di Tripaldelli vediamo un Cagliari più propositivo a livello offensivo, un Cagliari che sicuramente vuole tentare di far qualcosa, di far del male alla Juventus e ne dimostrazione un gol annullato a Clavan per fuorigioco, però il risultato non cambierà più. Pirlo darà minuti a Dybala, darà minuti a Dybala, però non arriverà il risultato sperato, non arriverà il terzo gol. Prestazione buona da parte della Juve, specialmente da parte della difesa, Demiral veramente è un giocatore fantastico, un giocatore che nel futuro potrebbe veramente essere un difensore top, uno dei difensori più forti al mondo, lo dico e se lo dico io vuol dire che qualcosa ci vedo in lui. Comunque detto questo, per quanto riguarda il Cagliari molto spento l'attacco, Gio, Pedro e Simeone sicuramente hanno fatto una partita insufficiente. Per quanto riguarda la classifica, questa partita sommata alla vittoria esterna della Lazio contro il Crotone e al pareggio esterno dell'Atalanta contro lo Spezia, portano provvisoriamente la Juventus a meno uno dal Milan, seconda in classifica, superando momentaneamente Sassuolo, Napoli e Roma. Vedremo un po' collegare di domani che cosa accadrà. Il Milan e il Napoli giocano assieme, il Sassuolo ha una partita difficile in un campo difficile come quello di Verona. La Roma invece ha una sfida abbastanza agevole contro il Parma, quindi vedremo un po' come andrà a finire questa giornata. Io ragazzi vi so e vi ringrazio e noi ci vediamo a un prossimo video. State dalla parte dello sport che non sbagliate mai. Ciao ciao!